Ok, l'ho spento, benissimo. Volevo chiamare sul palco per cominciare Thomas Margoni e Diego Acampora, entrambi collaborano col Centronexa, in particolare nell'ambito del servizio licenze libere. In quest'ultima sessione su Creative Commons Italia 2009, CICIT 2009, vogliamo fare una carrellata di alcuni sviluppi recenti, in particolare durante l'ultimo anno, che riguardano Creative Commons. Il mouse è sbagliato. Non voglio prendere troppo tempo con una piccola presentazione di background che ha soprattutto lo scopo di rendere quello che seguirà come approfondimento su alcuni temi specifici collegati a Creative Commons, accessibile a tutti. Quindi mi scuso con coloro i quali sono già esperti di Creative Commons, ma penso che qualche minuto dedicato a questa introduzione sia utile. Seguiranno poi gli interventi di Thomas Margoni, che allargerà un attimo questa presentazione di background anche al tema del software libero che non possiamo tralasciare. È finito un pochettino in coda e sicuramente è un tema che ci sta molto a cuore e che ci ricollega al servizio licenze libere, che è un servizio che dà assistenza di tipo informativo ed eventualmente anche consulenza legale, sia sui temi relativi alle licenze Creative Commons, sia sui temi relativi al software libero. E di nuovo il software libero tornerà al centro dell'attenzione nella breve relazione che Diego Acampora farà sul suo lavoro di stage al centro Nexa, che ha riguardato l'analisi di alcune iniziative di migrazione dal software proprietario al software libero. Anche qui un piccolo primo esperimento, sicuramente solo è l'inizio di una ricerca che va approfondita, però un esperimento che tiene in considerazione gli aspetti tecnologici di queste migrazioni e cerca con qualche difficoltà di raccogliere anche elementi economici, che è un altro dei temi che sono stati considerati cruciali e da approfondire. Dunque, a questo punto, siccome io introduco me stesso per qualche minuto, chiederei a Thomas di prendere questo strumento di potere e di interrompermi, ecco in questo modo, al più tardi alle 15.25, facciamo 27, dati i minuti, sia inflessibile perché voglio lasciare ampio tempo sia per avere una piccola pausa caffè, sia per quello molto interessante che seguirà alla pausa caffè, che continua questa sessione CICIT 2009, approfondendo il tema del rapporto tra Creative Commons e gestione collettiva, grazie all'intervento di Deborah De Angelis e di Giuseppe Mazziotti, e poi questa sessione di showcase e tavola rotonda in cui vedremo alcune iniziative tangibili, pratiche, basate sulle licenze Creative Commons. Allora, Creative Commons, sappiamo in realtà di cosa stiamo parlando, probabilmente perché oggi il tema è già stato toccato diverse volte. Le parole chiave per parlare di questo tema sono state menzionate tutte. I creatori, il diritto d'autore che ricevono automaticamente, l'importanza della condivisione delle comunità, dello sviluppo distribuito, la possibilità di facilitare questo approccio con uno schema giuridico in cui solo alcuni diritti sono riservati e non tutti i diritti come avverrebbe di default in assenza di altre specificazioni sotto il diritto d'autore tradizionale. Qui velocissimamente è già stato detto da Marco Ricolfi e da altri, in un mondo con nuovi autori, con nuovi meccanismi, nuovi intermediari o forse meno intermediari, sicuramente intermediari diversi, ci ritroviamo ancora con un vecchio diritto d'autore. Sicuramente il copyright 2.0 sarebbe uno sviluppo straordinario che inverta il default del copyright da tutti i diritti riservati ad alcuni e possibilmente pochi, ma in assenza o in attesa del copyright 2.0 abbiamo modo di indirizzare questo problema di tutti i diritti riservati di default. La situazione attuale è che senza chiedere niente io ricevo un copyright completo, lo ricevo non solo per tutta la mia vita, ma per 70 anni dopo la mia morte, insomma 100 anni se non sono molto sfortunato. Dal mio punto di vista probabilmente non conta molto, ma dal punto di vista di tutti gli altri quell'opera è bloccata lì, in una situazione in cui per farci qualunque cosa, chiunque mi deve chiedere il permesso preventivo. Per inciso è meglio se me lo chiede in forma scritta, se non vuole avere problemi, quindi deve trovarmi, contattarmi, avere una risposta scritta. Non sempre è così facile. Ci sono molte ragioni che ci possono far dubitare che in alcuni ecosistemi di creatività, come molti di quelli legati a internet, basta pensare a Wikipedia, quello dei blog, l'idea di chiedere il permesso prima e dover andare a cercare il titolare dei diritti, sia un ostacolo mostruodo per il creatore che crea investendo alcuni minuti del suo tempo con una riflessione che condivide con gli altri, che fa parte di un progetto più ampio. Alcune delle ragioni per cui vogliamo condividere sono sintetizzate bene in un video che la comunità di Creative Commons ha sviluppato e che Simone Aliprandi, che sarà il chair della prima parte dello showcase e tavola rotonda, ha doppiato in italiano, di cui ha curato la traduzione. Quindi mi piacerebbe come parte di questa introduzione, il video per fortuna è molto breve, quindi anche con i nostri tempi ristretti possiamo provare se la tecnologia non ci tradisce a sentirlo. Quando condividete le vostre creazioni, consentite a chiunque di usarle, imparare da esse e prendere ispirazione. Pensiamo ad un insegnante che forma le giovani menti con le opere e la conoscenza provenienti da tutto il mondo, oppure un artista che crea cose bellissime partendo dai beat e dai frammenti che trova online, oppure uno scrittore le cui storie utilizzano idee e immagini realizzate da persone che non ha mai incontrato. Queste persone sanno che quando ognuno condivide la sua ricchezza creativa si possono fare grandi cose. Esse e gli altri milioni di persone di tutto il pianeta stanno collaborando per costruire un patrimonio culturale migliore, più ricco, più vivace, usando Creative Commons. Per capire Creative Commons è necessario conoscere un po' come funziona il diritto d'autore. Quando create qualcosa, qualsiasi cosa, una fotografia, una canzone, un disegno, un film, una storia, automaticamente acquisite su quelle opere il copyright secondo un modello tutti i diritti riservati. È vero, il copyright protegge la vostra creatività da usi che non avete autorizzato. A volte però un copyright totale risulta troppo restrittivo. Infatti cosa succede se si desidera che tutti quei milioni di persone possano usare le vostre creazioni senza l'ostacolo di dovervi chiedere il permesso? E cosa succede se si desidera che tali opere possano essere liberamente condivise, riutilizzate e sviluppate dal resto del mondo? Per fortuna c'è una risposta. Creative Commons. Mettiamo a disposizione liberamente delle licenze di diritto d'autore che possono essere utilizzate per comunicare alla gente esattamente quali parti del tuo copyright sei felice di concedere a tutti. È facile, ci vuole solo un minuto ed è completamente gratuito. Entrando nel nostro sito e dopo che avrete risposto ad alcune domande tipo permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali oppure permetti che la tua opera venga modificata, in base alle vostre risposte vi forniremo una licenza che comunica con chiarezza ciò che la gente può fare e non può fare con le vostre opere. Non state rinunciando al vostro diritto d'autore, lo state solo ridefinendo in modo che si adatti meglio al vostro caso. Benvenuti in un mondo nuovo in cui è la collaborazione che conta. Pochi anni fa tutto ciò non era nemmeno concepibile, ora invece ci sono milioni e milioni di canzoni, immagini, video, testi a disposizione per essere condivisi, riutilizzati e remixati, tutto liberamente. Volete collaborare? Allora unitevi ai Commons. Creative Commons. Mi scuso per il taglio delle storie di coda ma come potete capire i tempi sono molto stretti. Comunque questo si inserisce forse anche in un tentativo di divulgazione che tiene conto della cultura iconica e della necessità di sintetizzare in tre minuti quello che oggi abbiamo detto a proposito di Creative Commons del copyright e delle sue rigidità. Mi sembra tra l'altro che sia una sintesi efficace, posso dirlo siccome non ho avuto ruolo nella creazione di questa opera che mi sembra sicuramente meritoria. Molto rapidamente l'idea delle licenze Creative Commons come ormai avete capito è essere in grado di condividere la vostra opera a certe regole mantenendo alcuni diritti riservati senza bisogno di essere un avvocato o di pagarne uno. Naturalmente questo si ottiene tramite delle licenze standardizzate di diritto d'autore. L'idea è che non è più necessario che chi vuole riutilizzare o almeno ridistribuire la mia opera mi debba chiedere il permesso perché l'autore me lo dà già prima. Naturalmente questo presuppone una consapevolezza da parte dell'autore che in attesa del copyright 2.0 deve scegliere lui stesso di applicare la licenza. La licenza che ha una struttura modulare rispondendo alle domande che abbiamo visto si può scegliere che tipo di diritti mantenere riservati, quelli relativi agli usi commerciali, la creazione di opere derivate quindi che modificano la mia opera o se si voglia utilizzare un approccio virale, cioè obbligare legalmente gli altri che modificano la mia opera a condividerla e rilasciarla con la stessa licenza. Come sapete eliminando le combinazioni non sensate si ottengono sei diverse licenze creative commons. Queste licenze sono rappresentate da un codice giuridico insomma comprensibile agli avvocati, agli giuristi a cui si contrappongono gli esseri umani nel linguaggio di creative commons che capiscono il commons deed, insomma la versione per le persone normali. Poi c'è il codice diciamo comprensibile ai computer che facilita anche il lavoro dei motori di ricerca nel metterci a disposizione materiali che possano essere riutilizzati magari per creare nuove opere. Il ruolo dei gruppi come quello italiano, dei gruppi di lavoro giuridici nazionali è quello di adattare il codice legale ai sistemi giuridici nazionali per fare in modo che sia il più possibile rispondente alle caratteristiche per esempio della normativa italiana. Quindi non solo la traduzione in italiano ma anche un adattamento giuridico. Ora come vedete da questa attribuzione per ora noi siamo alla licenza 2.5 in Italia e stiamo lavorando, per fortuna siamo alla fine di questo lavoro, al rilascio della versione 3.0 delle licenze e negli ultimi 5 minuti che il mio cerbero mi lascia vorrei cercare di darvi un'idea di quelle che sono le innovazioni apportate dalle licenze 3.0. Non si tratta di innovazioni rivoluzionarie, si tratta di raffinamenti delle licenze che hanno dimostrato di essere uno strumento già ampiamente efficace come è dimostrato dai milioni di opere che vengono rilasciate con queste licenze. L'approccio generale dietro alla versione 3.0 delle licenze è aumentare ulteriormente l'internazionalizzazione e l'armonizzazione di questi adattamenti ai sistemi nazionali però fatti in modo il più coerente possibile. Uno dei temi trattati che non è stato particolarmente difficile indirizzare in Italia perché già con la versione 2.5 lo trattavamo una certa attenzione è quello dei diritti morali. Le licenze Creative Commons come vedremo dopo la pausa caffè interagiscono anche col sistema della gestione collettiva. Nell'ambito delle licenze 3.0 si chiede una particolare attenzione e una certa uniformità a livello internazionale nei rapporti con la gestione collettiva. in Italia con SIAE per esempio ma su questo non approfondisco perché Deborah e Giuseppe ne parleranno specificamente nel proseguo. Le novità diciamo più sostanziali riguardano il famigerato diritto sui generis sulle banche di dati in particolare poiché in Europa a differenza del resto del mondo ci siamo ritrovati con questo diritto che riguarda non la struttura di una banca di dati, il modo in cui presentate i dati ma insomma sostanzialmente protegge l'insieme dei dati stessi sulla base del fatto che avete investito soldi a crearli. Cosa c'entra con le licenze creative commons? Un esempio tipico in cui questo c'entra è quello di un paper per esempio accademico pensate ad un'analisi economica magari econometrica a cui sia allegata una banca di dati. Io voglio rilasciare questo articolo con la licenza creative commons ma voglio che anche i dati possano essere riutilizzati da qualcuno che vuole fare una seconda versione del mio articolo. Questo non è così banale da ottenere e trattare questo punto è una delle ragioni per cui abbiamo dovuto praticare di più nei nostri adattamenti nazionali che poi sono adattamenti che devono essere fatti non solo in Italia ma in tutta Europa soprattutto sull'impulso di science commons che approfondisce in particolare che è praticamente attenta al ruolo di questo diritto sulle banche di dati rispetto alla produzione scientifica. Un'altra novità interessante che in un certo senso è interessante da leggere per un esempio a contrario, adesso vi spiego che cosa intendo, è quella delle licenze compatibili con creative commons. Cioè dalla versione 3.0 si prevede esplicitamente nell'ambito della licenza che possano esistere altre licenze compatibili. Questo tipo di ragionamenti sulle licenze compatibili e i rapporti con i gruppi che sviluppano altre licenze libere di diritto da autore ha portato per esempio al risultato straordinario di Wikipedia che è potuta migrare per così dire a utilizzare anche la licenza attribution share e like per tutto il suo contenuto. Qui la compatibilità era dalla GNU Free Documentation License a attribution share e like ma il ragionamento è compatibilità tra licenze, significa un progetto enorme sotto una certa licenza può passare a un'altra simile senza rimanere intrappolata, per esempio intrappolata come progetto in una licenza che magari come la GNU Free Documentation License è molto interessante e valida in alcuni campi ma un po' difficile per esempio da comprendere per gli utilizzatori. Un'altra modifica che volevo, cioè un altro raffinamento delle licenze che volevo menzionare a questa platea che comprende molte persone che lavorano in ambito universitario che fanno pubblicazioni è quella che riguarda l'attenzione ad evitare nell'ambito della licenza qualsiasi linguaggio che suggerisca un avallo o una sponsorizzazione di un'opera derivata da parte dell'autore originario. L'esempio principe in questo campo è stato l'MIT che voleva rilasciare proprio i materiali didattici e scientifici con le licenze Creative Commons però se un povero disgraziato che insegna in Italia come me prende le slide dell'MIT e lascia il logo, il marchio dell'MIT o fa finta che siano prodotte dall'MIT o che l'MIT approvi quello che lui dice, si appropria diciamo del prestigio dell'MIT e non si limita a costruire sul contenuto di queste slide e quindi si vuole evitare che questa implicita sponsorizzazione possa essere sfruttata in maniera scorretta. Questo in teoria era già escluso in via interpretativa con versioni precedenti delle licenze ma chiarirlo può aiutare soprattutto chi fa pubblicazioni scientifiche ed accademiche a utilizzare con più tranquillità le licenze Creative Commons. Qui mi sono spinto a mettere una data, speriamo di non essere smentiti ma insomma sicuramente prima della fine dell'anno e salvo i problemi entro metà dicembre le licenze italiane 3.0 con queste ed altre novità e raffinamenti dovrebbero essere online. Come sono andato Thomas? Ma direi perfetto, ho spattato un minuto. Grazie. Applausi Bene, allora Premetto subito che il cuore del mio intervento sarà dedicato al progetto Selilli del quale potete vedere un bellissimo flyer verde qui con me che potete raccogliere nel banco che trovate di fuori che mi invito a fare perché è proprio bello e sul quale trovate l'indirizzo web del nostro sportello che è Selilli Polito IT Tuttavia, prima di entrare nel merito di questo tema e a parziale soddisfazione dell'osservazione formulata precedentemente dal professor Romeo però solo parziale in quanto non entrerò assolutamente nel dettaglio di ciò che il software libero è Tuttavia per chiarire esattamente l'attività di Selilli una breve spiegazione soprattutto per coloro che non hanno familiarità a quel concetto la riteniamo necessaria in quanto Selilli si occupa di licenze libere sia riguardo a prodotti letterari, musicali per cui proteggibili attraverso licenze quali le Creative Commons però anche si dedica a licenze che sono intenzionate a proteggere il software per cui licenze libere chiaramente e dunque il concetto di software libero l'acronimo generalmente in uso è FLOSS che vuol dire Free Libre Open Source Software il motivo per il quale abbiamo una definizione così lunga è di natura terminologica è stata quasi una battaglia religiosa a un certo punto per distinguere il senso di software libero da quello di open source per cui alla fine si è deciso di avere una categoria onnicomprensiva il problema fondamentale era connesso alla parola free che in inglese vuol dire sia libero che gratuito e dunque molte volte il concetto di software libero era connesso a livello interpretativo soprattutto da parte del pubblico al fatto che esso fosse totalmente gratuito cosa che non è sempre vera o meglio va dettagliata in maniera più precisa ma che soprattutto in ambito business creava parecchia remore in quanto secondo poi i fautori del concetto di open source era una definizione troppo sbilanciata a livello filosofico su un concetto etico comunque possiamo vedere come la definizione e tant'è vero che è stato abbinato la parola libre spagnola per libero che sta a significare solamente libero e non gratuito quello che Richard Stallman uno dei fondatori del movimento del software libero suole dire è free as in free speech not as in free beer per cui non è birra gratis ma è libertà di espressione il software libero si caratterizza per quattro libertà fondamentali che qua non entrerò nel merito però insomma le potete brevemente vedere sono la libertà di eseguire il programma la libertà di studiarlo di copiare il programma e la libertà di migliorare per cui creare opere derivate o modificate e redistribuire tali miglioramenti vediamo che alcune di queste caratteristiche sono comuni alle licenze Creative Commons tanto è vero che Creative Commons non nega di essersi ispirata al movimento software libero che certamente è più antico una dei prerequisiti è ovviamente la disponibilità del codice sorgente in quanto senza codice sorgente è impossibile procedere ad alcuna di queste attività nel caso di open source abbiamo una definizione leggermente differente sono dieci principi, dieci condizioni non le vediamo però se analizzate con attenzione corrispondono in larga misura a quella di software libero dunque da un punto di vista pratico la distinzione fra software libero e open source non ha quasi alcuna rilevanza dunque l'utilizzo del termine FLOS è ampiamente giustificato esempi di licenze libere la più famosa sicuramente è la GNU General Public License che è la licenza con la quale prodotti come Linux il kernel o parte del sistema operativo vengono distribuite la BSD Berkeley Software Distribution la originale e poi tutta la famiglia per cui la open BSD, free BSD la Apache License che è la licenza che pur essendo una cosa ignorata ma copre si dice fra il 60 e l'80% dei server web ai quali voi vi connettete quotidianamente la LGPL con una versione più debole della GPL per quanto riguarda il software la MIT, la QT, la Mozilla Public License per cui coloro di voi che usano Firefox, Thunderbird o questi prodotti salto questa slide come Federico mi suggerisce per cui non entrerò nei particolari di che cosa sia il copyleft forte debole o non copyleft anche se il concetto di copyleft corrisponde largamente alla clausola share alike delle licenze Creative Commons che vuole praticamente che l'opera derivata venga rilasciata con i stessi termini di licenza non entrerò neppure nel concetto di opera derivata e nel caso di per esempio compilazione di librerie con software cosa sia esattamente un'opera derivata e come questo concetto abbia forti influenze rispetto alla licenza che deve essere applicata poi al prodotto finale in ogni caso tutta questa famiglia di licenze e di definizione che abbiamo visto rientrano perfettamente nel concetto di software libero e open source sottoveloce ok dunque detto questo premessa necessaria possiamo entrare a analizzare cos'è il progetto Selilli servizio licenze libere ovvero uno sportello virtuale con delle persone fisiche dietro ma lo sportello è virtuale non troverete uno sportello fisico con me o Federico ad attendervi tuttavia se ci iscrivete saremo ben felici di rispondervi il cui obiettivo è quello è duplice ma è quello di sostenere gli utenti di questa tipologia di licenze che abbiamo finora visto creative commons per quanto riguarda i contenuti free and open source software licenses per quanto riguarda il software ovviamente creative commons non sono le uniche ci sono altre licenze libere per contenuti che non sono le creative commons tuttavia creative commons rappresenta la larga maggioranza di questo tipo di licenze perché abbiamo fatto questo progetto perché abbiamo osservato qualcosa che è facilmente definibile come un fallimento di mercato ovvero molti utenti interessati potenzialmente ad utilizzare le licenze libere per le loro produzioni a causa della loro non conoscenza degli aspetti giuridici o a causa della loro non conoscenza degli aspetti tecnologici o a causa della loro non conoscenza degli aspetti economici collegati all'utilizzo di questo tipo di licenze dice di fronte a questo problema non utilizzavano le licenze ovvero la difficoltà di accesso all'informazione rispetto a questo tipo di utilizzo rappresentava un out-out siccome non sono sicuro di come fare non le utilizzo questo è particolarmente vero soprattutto per quelle realtà o volontaristiche o professionali o comunque anche se imprenditoriali di natura medio-piccola IBM ovviamente ha un dipartimento legale sufficientemente grande per avere qualcuno che si occupa di questo tipo di tematiche una piccola e media impresa ovviamente non ha i ricorsi finanziari per procedere in tal senso e contattare di volta in volta un avvocato oltre ad essere costoso ha anche un problema connesso rispetto alla formazione non è così facile trovare personale specializzato che abbia che conosca nello specifico le tematiche collegate all'utilizzo di queste licenze non solo a livello legale ma anche tecnologico ed economico per cui che modelli di business mi permette l'utilizzo di questo tipo di licenze se io permetto a tutti di copiare a determinate condizioni la mia canzone come faccio a vivere di questa mia attività sono obbligato a fare il lavapiatti e poi a scrivere canzoni e a suonare come un peper hobby o vi è un modo per utilizzare queste forme di condivisione ma mantenere un profilo che possiamo definire professionale e dunque devo andare lento il tuorologio e comunque oltre all'aspetto economico anche quello tecnologico come faccio ad applicare le licenze che abbiamo visto espresse in vari linguaggi tra i quali per esempio quello tecnologico ad un prodotto su queste su questa tripartita tipologia di interventi se Lilli offre un servizio informativo dunque viene scritta un'email allo sportello viene contattato al sito web e se la richiesta è di tipo diciamo base ovvero ho creato un prodotto come posso proteggerlo con le licenze creative commons ebbene lo diamo la spiegazione di quanto sia il diritto d'autore che protegge le licenze non le scusate il prodotto della creatività non le licenze e che le licenze invece determinano come viene ridistribuito questo prodotto altre volte e questa è la tipologia maggiore di richieste altre volte il tipo di richiesta è particolarmente complessa e in questo caso noi creiamo una consulenza ad hoc consulenza nel termine nel significato giuridico della parola la particolarità di questo intervento è che per l'utente finale il richiedente tale consulenza è completamente gratuita in quanto il relativo costo viene sostenuto dalla regione Piemonte e dunque se un individuo un'associazione un ente territoriale o una piccola e media impresa piccola con un limite di 15 dipendenti si trova nella necessità di ottenere questo tipo di informazione a livello di consulenza ebbene le verrà fornita da un professionista specializzato a costo zero per l'utente finale abbiamo osservato come nell'ultimo anno le richieste di tipo base siano diminuite e noi ci piace ricollegare questo fenomeno alla nostra implementazione di quello che abbiamo definito servizi informativi ovvero una serie di FAQ relativi a sellili che ripropongono chiaramente in maniera del tutto ripulita anonimizzata le questioni più frequenti in maniera tale che spesso e volentieri sia possibile ottenere una risposta alla propria domanda senza dover contattare direttamente il servizio ma direttamente sul sito web riproponiamo delle FAQ delle frequently asked questions che rappresentano quello che di solito ci viene chiesto tendiamo a riprodurle più che possiamo abbiamo delle FAQ anche su che cos'è sellili e dunque quali sono le caratteristiche del nostro servizio ovviamente abbiamo anche un termine di utilizzo ma siccome sappiamo che generalmente tutto quello che è legale non viene letto allora lo rendiamo anche in forma diciamo più user friendly ma quello che facciamo e che secondo noi è particolarmente interessante anche le consulenze ovviamente con ancora più attenzione di prima e dunque totalmente filtrate da ogni dato sensibile o questo tipo di informazioni vengono rese disponibili online sul nostro sito in maniera tale che il sapere che viene prodotto grazie al nostro progetto possa essere usufruito da tutti gli utenti della comunità di internet fondamentalmente al momento abbiamo al momento abbiamo circa prodotto un'ottantina di informative di primo livello abbiamo o stiamo seguendo sei consulenze di secondo livello due consulenze sono già presenti sul nostro sito e speriamo di averne a breve anche le altre che sono state già concluse con questo io risparmiandomi qualche minuto per la fine concluderei introdurrei il tuo interessantissimo progetto due rapidissimi commenti uno dobbiamo aggiungere le frequent asked questions su Selili come si pronuncia Selili Selili o Selilli qui c'è un dubbio tra me e Thomas no si dice Selili come lo pronuncia Federico è a causa della mia dislessia scusate seconda cosa più seriamente volevo ringraziare tutti coloro che che rendono possibile il servizio Selili quindi tutti gli uditori come chiamiamo insomma quelli che sono iscritti alla mailing list di Selili che è una lista interna sono dei professionisti che ci aiutano a rispondere alle domande a livello informativo e semmai poi sono disponibili per le consulenze giuridiche vere e proprie adesso lascio la parola a Diego allora gli utenti inglesi dico anche che nella mia pronuncia di frequently asked questions non va fraintesa mi raccomando allora salve a tutti io ho da poco concluso uno stage di fine master con il centro NEX affiliato al Politecnico di Torino in un progetto che abbiamo chiamato Emigra e che riguarda la mappatura sulle migrazioni a software libero cioè sui passaggi da software proprietario software libero che riguardano un numero medio grande di macchine e di computer diciamo che l'idea era venuta perché a nostro parere manca un dato aggregato disponibile in rete su queste migrazioni nel senso che esistono delle informazioni sulle soluzioni adottate sulle architetture in questione ma sono disgregate e non sono aggregate per chiunque o abbia serie intenzioni di migrare o dall'altra parte invece si trovi un po' nel dubbio a metà strada se fare questo passaggio o meno il progetto Emigra vuole appunto creare questo database di soluzioni architettoniche basate sul software libero e anche in qualche modo di far emergere gli ostacoli che ci sono alla diffusione del software libero che ce ne sono bisogna essere molto realisti in questo caso con delle prospettive future che poi dopo illustrerò mi prendo anche qualche minuto per illustrare diciamo l'ultima parte del mio stage che ha avviato anche il questionario del progetto Comune dell'Unione Europea dunque le realtà che hanno risposto al nostro richiamo diciamo così sono il centro NEXA che è stata la prima realtà ad essere stata intervistata il centro Liasis il centro rete della facoltà di economia le aule di informatica della facoltà di fisica di via Pietro Giuria due istituti superiori che sono l'istituto tecnico Peano che diciamo da tempo non sospetto utilizza il software libero ormai quasi 15 anni e l'istituto alberghiero Giolitti un po' in periferia a Torino che timidamente si sta avvicinando abbiamo poi intervistato anche l'istituto nazionale di metrologia che fa parte del CNR e ci ha risposto in maniera positiva dunque di che cosa è composto il questionario innanzitutto abbiamo chiesto le caratteristiche della struttura quindi quali sono le mansioni legate all'uso del computer che ci sono all'interno della struttura in questione quali fossero le architetture di sistema cioè architetture di rete client serve quali software sia open source che proprietari sono presenti sono utilizzati quale fosse la situazione pre-migrazione se esistente nel senso che è abbastanza utile cercare di capire appunto fare dei confronti tra le due situazioni appunto pre-migrazione e post-migrazione un altro dato importante è la spesa complessiva per assistenza informatica formazione del personale e soprattutto licenze proprietarie quali sono stati e quali sono tuttora gli ostacoli e i vincoli che la migrazione stessa ha portato e invece quali sono i miglioramenti visibili ottenuti grazie a questa alla stessa l'ultima domanda molto legata in realtà al progetto Comunia è una domanda se sull'esistenza o meno di una politica all'interno di ognuna di queste strutture su in generale open access e in particolare su licenze brevetti archivi tesi di laurea eccetera Allora direi i punti di forza che abbiamo trovato all'interno diciamo dalle risposte che ci sono state date alcune architetture server client ci sono sembrate particolarmente belle soprattutto quella dell'istituto della facoltà di fisica che nelle due aule di informatica che circa 100 macchine tutti i giorni vengono utilizzati da centinaia di persone c'è un'architettura diskless completamente che ha migliorato sia l'efficienza di servizi erogati che la possibilità di gestire questo numero enorme di macchine che attualmente viene gestito da una sola persona che un po' si lamenta di questo ma se non avessi avuto l'architettura diskless avrebbe fatto ancora più fatica e l'istituto peano che è un gioiello secondo me torinese perché ormai sono 15 anni che in qualche modo sta utilizzando strumenti di free software per didattica gestione documentale e interazione studenti-docente cercando di rendere protagonisti i stessi studenti con strumenti free software nella creazione ad esempio di un portfolio personale di un book personale che è stato fatto con strumenti totalmente free software sicuramente c'è una progressiva alfabetizzazione nei confronti del mondo linux sempre più persone anche grazie ad alcune distribuzioni molto user friendly che sono uscite negli ultimi anni si stanno avvicinando al mondo linux tutti gli operatori in questione ritengono che la migliore qualità del free software in particolare del sistema operativo GNU linux sia la stabilità e la robustezza molte meno grane da questo punto di vista e mi piace come ultimo punto di forza sottolineare il riuso del free software che nello stesso centro nexa in cui ho svolto il mio must il mio stage è una cosa importante perché moltissimi documenti vengono visualizzati attraverso il peer reviewing e quindi c'è assolutamente bisogno che sullo stesso documento si lavori in tanti senza problemi di compatibilità tra formati naturalmente non è tutto rose e fiori direi che c'è qualche difficoltà in generale per qualche incompatibilità su open office writer e calc rispetto ad altri documenti di formato proprietario qualche software ancora mancante in alcuni casi il più il più eclatante è sicuramente il CAD e simili una presenza di software proprietario obbligatorio all'interno di alcune strutture per esempio all'interno dell'INRIM ma anche della facoltà di economia che frena appunto la curiosità delle persone e l'apprendimento nel senso che inserire elementi di free software quando il professore o il docente decide di fare un esame con quel tipo di software proprietario è molto difficile strutture che da sole non riescono a migrare e forse sarebbe anche dannoso nel senso che quando una struttura fa parte di una piramide per cui è linkata in alto e in basso con altre strutture che migri da sola può creare dei problemi perché a quel punto ci sono sicuramente dei problemi di compatibilità per esempio nella documentazione e poi quali conoscenze richiede il mondo del lavoro purtroppo il mondo del lavoro chiede ancora conoscenze che riguardano software proprietario le prospettive future di Emigra sono la possibilità di indagare ancora di più sui costi reali delle licenze questo è un dato molto difficile da far emergere e immaginare nuovi business model legati al free software appunto a partire dai costi reali diventare uno strumento di consultazione l'idea è quella di portare sul sito di Selili tutto questo database di informazioni e che tutto questo possa diventare un punto di riferimento per la pubblica amministrazione e per l'istruzione pubblica dunque in breve mi sono occupato all'inizio del progetto Comunia che è un progetto della comunità europea che parte dalla dichiarazione di Wheeler che ha creato una campagna per l'accesso aperto ai prodotti della ricerca scientifica sul materiale didattico per l'utilizzo in università del free software e degli standard aperti per uno stimolo verso l'università a licenziare secondo licenze libere i brevetti che sono parte dell'università come ad esempio alcune medicine essenziali in tutto il discorso che è stato fatto anche prima nel quadro del bene comune e che la rete informatica universitaria possa configurarsi secondo le migliori intenzioni e caratteristiche della rete internet in ultimo diciamo che il progetto comunia sta per far partire in qualche modo ha avviato ormai questa survey verso i due atenei torinesi che sono l'unito e il politecnico con questa indagine molto larga ad ampio spettro per verificare l'accessibilità a questi prodotti della conoscenza cioè se tutti i prodotti della ricerca scientifica tutta la documentazione verso l'interno e verso l'esterno sia accessibile a studenti docenti personale e cittadini comuni con l'augurio che questo lavoro questa indagine possa creare su Torino che diventa un progetto un pilota in Europa una comunità di atenei interessati a promuovere l'accesso aperto all'università e probabilmente a cominciare a pensare come si è già detto da stamattina alla diffusione delle licenze libere come strumento principale per sia la diffusione che l'archiviazione dei prodotti della ricerca ho concluso direi che siamo riusciti a concludere in tempi abbastanza giusti forse abbiamo tempo per una breve domanda poi però vorrei al limite incominciare la parola da caffè con un minuto o due di anticipo perché ci sono molte cose interessanti dopo la pausa per cui forse una massima o due domande possibilmente abbastanza brevi il professor Meo sicuramente Anderoni e Maroni sono stati informati del progetto Emigra glielo manderemo per ora no temo che non ne siano a conoscenza spero magari quando quando uscirà dal Piemonte il progetto Emigra arriveremo anche a Roma insomma altre domande o possiamo forse passare direttamente alla parola da caffè e salvare due o tre minuti per la seconda parte della sessione assolutamente e mi raccomando quattro e un quarto precise con il campanellino cominciamo che caldo grazie sono stati giusti eh lo sappiamo tutti un spagnato perché se no la cosa che fa poi è drammatica va bene comunque le cose principali le abbiamo grazie